Con la mano, la massa è così dandole il ciclo a la mano un pollo se noi mettiamo un buccia in appago va a mantenere il risultato che la pizza e la massa si seguono molto facilmente va a chiedere così è un pollo è un pollo è un pollo è un pollo Grazie a tutti.